Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Benke e oggi siamo qui in un visto video. Allora, parto subito del dirvi che, mi scuso se non ci sono stati video, come molti di voi sanno, io sono in terza media e devo fare, sto facendo la tesina. Il 7 di giugno, quindi questo lunedì qua, dovrò consegnare la tesina. Oggi è un venerdì e dovrei fare la live, solo che non la faccio perché se oggi faccio la live non riuscirei in tempo a consegnare la tesina perché devo finire ancora alcune cose. E vi volevo anche dire che alle 15 è uscito un post su Instagram dove ho detto quello che vi dirò adesso. Vi lascerò anche l'immagine qua adesso e dal 7 all'11 non farò live, quindi per una settimana farò live per appunto i problemi di studio dell'esame e poi il 14 giugno farò la live e vi dirò quando farò l'esame e quando farò l'esame e come programmerò quei giorni lì in cui devo studiare per l'esame. Ok? Allora, alle 15 è uscito il post su Instagram, l'ho fatto anche uscire su Discord. Comunque qui compariranno tutte le varie social, le social di Discord, poi ci saranno anche Instagram. Comunque ci sono anche in descrizione tutti i link. Da quando seguite il su Instagram e entra anche nel mio strato di Discord e anche su questi due social qua vi tornerete aggiornati per i video e per i live. Mi scusa ancora se non ci sono state la video, però è questo qua il motivo. Ho fatto la tesina, sento che sono riuscito a fare live e i video faccio pratica a farli. Però comunque cercherò di farli quando finirà tutto, nella scuola, l'esame e tutto. Lunedì 14 giugno farò la live e vi spiegherò un po' del tutto, cioè quando farò la live, quando, come, quando farò l'esame e tutto e tutto. Grazie mille per la visione, questo video veloce, veloce, informativo, spero che sia chiaro perché non faccio video. Noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video o nel prossimo live, come c'è scritto qui a cianco, farò un live, faccio live lunedì, mercoledì e venerdì ore 16. Mi raccomando, vi aspetto in live e nei video. Ciao!